Questo è lo stato della strada provinciale 419 che collega De Ruta a Castelleone. Non è solo questo tratto, molti tratti sono in queste condizioni. Da tempo sono stati sollecitati intervento di manutenzione. Non si è fatto niente. Ora verrà fatta una petizione, richiesta da molti cittadini, consegnata nelle mani del sindaco di De Ruta, che dovrà rappresentarla nell'assemblea dei sindaci. Speriamo sia la volta buona, perché veramente non è più sopportabile una condizione del genere.